Prima che cominci il video volevo annunciarvi, udite udite, che stasera saremo in live per vedere Roma-Real Madrid insieme e fare le reaction in live su Twitch E saremo con Red e Frax, oltre che un altro nostro amico con il quale facciamo di solito le reaction Perciò non potete perdervelo stasera, dalle più o meno 8 in poi saremo sul nostro canale Twitch che vi lascio qui in descrizione E potremo vedere insieme la partita e fare delle reaction in live Penso sia una cosa fighissima, non potete mancare, perciò vi lascio al video, ci vediamo stasera Bello ragazzi, siamo tornati qui con una challenge, una challenge che abbiamo già fatto in passato Sì, quando abbiamo fatto il minestrone E sarà indovinare il film in 5 secondi Cosa faremo? Abbiamo fatto dei film random, abbiamo messo dei bigliettini che noi metteremo in un cappello Un mio cappello Uno a caso, poi faremo così E pescheremo E peschereccio E pescheremo E dovremmo far indovinare mimandolo oppure con delle parole ovviamente non chiave, tipo tabù, capito? Cioè tipo se il film è Natale sul Nilo, non posso dire Natale, Nilo, cioè capito? Non c'ha ripresenza Comunque, pesco il primo Perché è una pesca maschio Basta Pesco il primo Allora Vai, vado Vai Droghi Allora, nei commenti No Darryl, ma è sbagliatissimo come dai pugni Sì, tu sei tutti pugilini Allora Vai Porco 2 Che è? Ho fatto questa per tutto l'orecchio Ah C'è quando hai la mandibola di scrocchia Ah L'ho smandibolato Ha smascellato La forza di Bippa Vado? Vai Hai già da rire Oddio un orso Adesso Un orso Ma che è il reminato Vadovi più fa Oh yeah Non si fa ancora da un orso No, non è che si fa ancora Si fa ammazzato Mezzo stupra forse Però un orso Un orso è servito Un orso Signora, c'è un orso per lei Chi? Un orso Un orso Un orso O, scarico per me Ci stavo già pensato Che cazzo fai? Ma che è capito qual è? Carate kid Che è? Porco due mi stavo a spacciar collo Aspetta, aspetta Rifamola Questo Ma perfaculo Ma mi stavo a ammazzare 300 Porco due 300 Carci in culo Ma ha preso qua Non volevo io bloccato il carcio No, ti stava più qua Eh porco due Sei scemo Mi spacchi il collo De mori Ci ha Ah Che va Tra me quel cazzo Grazie, è chiuso Perfetto Allora Coglioni Vado Fall Walker muore Avevo troppo fatto Vabbè però Il film hai detto Eh no No, fanno un altro Dai Perché in realtà Non muore nel film Vabbè dai Ho capito Ho capito Che era taxi driver Vai Vai Pronto Si frustami Legami Fai quello che puoi Ma che hai 50 sfumotere di grigio Signor gay A me piace Strano Eh Allora Vai Grazie Cazzo Ti devi dire Porco Tu Marcazzo Aaaaa 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 Io ti faccio continuare Perché è troppo bene Aspetta Non so passare 5 secondi Questo effetto sonoro E' qualcosa Tra magnifico Vai Dove Ma Dove Il frigo Colponente La cavia Io te lo lancio Veramente E te lo eviti Guarda Famolo In real life Piano Sì sì Pianissimo No Devi da così Devi da così Però piano Ti lo piano Devi far pure Tirarlo tipo così Vai Oddio la frecce No Dai Se mi viene l'occhio Mi fai male Sono nero Capito Che è The Arigane Arigane Rubin Arigane Carter Ma che cazzo c'entra Mazza Però son nero Capito Però è col Rog nero Ma che cazzo No lo so Che è Django No E che mi è meno a Django La gente Gli spara E tu Fuggilato Non so Non ho mai visto E' uscito adesso Cioè nel senso No No Creed Assassin No Creed e basta No Non lo conosco Cioè sarebbe l'ultimo De Rocky E lo conosco Eh vabbè Ho capito Non so in realtà Di questo film Ci sono tante scene Che uno potrebbe imitare Però non so mai Quale fare Fare le tutte Che cosa cazzo sta facendo Aspetta che c'entra Ah De Wolf Dello street No 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 Non ho capito Perché sta a fare Defficienza Perché quando sta tipo Stratto L'arrivo Di versare Potrò piacere in pelle Potevi far quella Che pittavi dal culo E quello L'ho fatto Dal culo Eh dove sta al culo Eh dove sta al culo Comunque L'ultima tua 50 euro buca culo Amico Ma che è un po' In Danimarca È un film amatoriale Che fanno No No 5 euro buca culo In Danimarca Il primo caso Di Transessualità Danish girl Bravo L'avrò visto Soltanto perché Era nominata In Danimarca Perché 50 euro buca culo Perché è in trans Poi i danesi Parla con di 50 buca culo Tutti trans Se parla così Parla con il suo supposto Cazzo Vabbè Non sapevo come ho fatto Capire Ignoranza Ho capito Che dicevo Comunque il mio ultimo Era Questo qua Che era Non male che non M'hai fatto Ma che cazzo è The ring Allora ragazzi Se questo video Vi è piaciuto Lasciamoci in qui Di like Per vedere Una nuova challenge Di noi Che cerchiamo Di dominare film La prossima Ovremmo farla Con le serie tv Perciò Se volete Vedere la serie tv Scrivetecelo qui sotto E lasciamoci un come Like Per un prossimo video Grazie a tutti Della visione Ciao